Ciao ragazzi, questo è un prepariamoci assieme che ho registrato moltissimi mesi fa, settembre-ottobre, quindi 4-5 mesi fa Casuale che sia fatto ancora con la Vice 2, però mi avete chiesto di caricarlo, quindi eccomi qua Allora, come fondotinta uso il Double Wear di Estée Lauder nella colorazione più chiara Ne metto un po' con le mani, non ne applico tanto perché avevo la pelle un po' rovinata e non volevo stressarla troppo o coprirla troppo Sumo il tutto con lo Beauty Blender, come vedrete avrò ancora dei segni e non metterò il correttore Diciamo che in videocamera tra l'altro si vedono anche di più, quindi in realtà dal vivo stavo meglio Sopracciglia, matita per le sopracciglia di Yves Rocher che amo, alla follia Sembrano fatte malissimo le sopracciglia ma poi vi assicuro che il risultato finale sarà ottimo Come base uso il primer di Essence E prendo un pennellino piatto, ecco qua la Vice 2 E come primo colore applico il secondo della seconda colonna che si chiama Madness E' un bellissimo blu con... diciamo che è un blu shimmer Non è un blu molto scuro, è un blu di Prussia Pennello 217, prendo l'ombretto sotto che è Damaged Che è un bellissimo verde, in realtà in base nera E lo applico nella via esterna, compresa anche la piega dell'occhio Ne prendo pochissimo ragazzi e lo sfumo bene 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 Perché altrimenti viene molto brutto Poi prendo questo bellissimo colore che è Toxic E lo metto con lo stesso pennello ma girato nella prima parte dell'occhio E' un colore bellissimo Una specie di pesca corallo molto shimmer Pulisco il pennellino 217 E riprendo Toxic E praticamente congiungo... Cioè lo metto nella prima parte della piega dell'occhio Congiungendolo con il verde Sfumandolo bene con il verde che avevo messo nella piega Purtroppo i colori non si vedono molto bene Ma poi si vedranno meglio alla fine Sotto l'arcata sopraccigliare metto semplicemente un color panna E vado a sfumare di nuovo col 217 Per integrare i due colori Col pennellino sporco di blu Vado a sporcare le ciglia inferiori Non ho preso altro prodotto Semplicemente uso la parte sporca di blu Per appunto sporcare le ciglia inferiori Poi prendo il colore più chiaro della palette Che è Dope Che è una rosa leggermente satinato Lo metto proprio nell'angolo interno dell'occhio Con un pennello angolato Prendo questo bellissimo nero con tantissimi brillantini Scusate Che è Love Seek E lo metto come eyeliner Ecco come vedete State molto molto attaccate Alla linea Alle ciglia superiori Perché così vi darà l'impressione Da avere più ciglia Ok non riesco a parlare Sfumo poi la codina finale Nella piega In modo da intensificare il trucco Pulisco un po' Con la Beauty Blender Poi Riprendo Dope E lo metto Anche sotto Col pennellino sporco di nero Come vedete Sporco sempre le ciglia inferiori Però stanno proprio attaccata Cioè lo passo Tra le ciglia Poi prendo la matita avorio di neve Che ormai sta quasi finendo E la metto nell'arima interna dell'occhio La intensifico bene Piego le ciglia E metto il mio adoratissimo mascara Come vedete Sembra che io non abbia ciglia Quando metto questa mascara Invece Le mie ciglia sono fantastiche E' in assoluto il miglior mascara Che io abbia mai provato Quanto meno è il migliore E non mi dà fastidio agli occhi Come per esempio Il No come si chiamava quello di Ersense Quello grande Ok non mi viene in mente Vabbè Prendo un pennello a due fibre piccolino Che tra l'altro io consiglio a tutti Questo l'ho preso da Crown Brush E mischio L'eray space Nella colorazione 3 e 1 Semplicemente perché 1 era troppo chiaro Allora ho preso il 3 per Insomma Bilanciare un po' le cose E lo metto Dove ho proprio il segno I segni viola Come vedete Sono molto cremosi Coprono tutto So che molti non si trovano bene Con questo Correttore Ma io mi ci trovo bene Questo è un blush In stick Di una collezione Di Kiko E allora In realtà il numero Non si vedeva Ma è inutile che ve lo dica Perché tanto era una collezione Limitata È una specie di Corallo Più freddo Però Come cipre Uso la sexy mama Di benefit Con questo maledetto pennello Di elf Che non mi piace per niente Infatti sembra che ne metto Un quintale Ma perché non Non preleva prodotto Poi ripasso le sopracciglia Con il street and tame Di elf Che anche questo Non mi piace Perché secondo me È lo scovolino Troppo grande Prendo un altro blush Che è il 34 Rose d'or Di bourgeois Che in realtà È molto shimmer È un color pesca Dorato Molto shimmer E lo passo Con questo pennello Lo metto Sotto un pennello Scusate Un blush in crema Perché non è molto pigmentato Come terra Uso questa qua Di Mua Che è fantastica Per fare un contouring Leggero Peccato che ultimamente Che la sto usando tanto Dove la metto Mi sono creati Tipo di brufoli Quindi temo Che mi faccia allergia Devo ancora capire bene Come rossetto Ne mischio tre I tre della seconda fila Che sono Uno vecchio Di Vrochet Uno L'ultimo a destra Che è di Elisabeth Arden E quello al centro Che è il 189 Di Kiko Della linea Shiny Mi pare Che tra l'altro Forse non esiste più Quindi insomma In realtà sono tre rossetti Abbastanza vecchiotti Comunque Le mischio assieme Per creare questo Corallo Che non è molto pigmentato In realtà Ma è meglio così Perché non sto molto bene E questo è il trucco finito Completo Spero che vi sia piaciuto E vi mando un bacio Gigantissimo E vi mando un bacio E vi mando un bacio